Sarà giudicato il prossimo 1 aprile con il rito abbreviato il 24enne di Francavilla Fontana, Carmelo Calò, il presunto aggressore del 26enne Davide Andriulo. L'accusa è di tentato omicidio premeditato, per quanto accaduto lo scorso anno nella tarda serata del 2 giugno 2020. Un episodio cruento, violento, che scosse l'intera comunità, protagonisti due giovani del posto ed una ragazza contesa. Una storia di gelosia andata avanti per settimane e poi trascinata quella notte, fino alle più drammatiche conseguenze. Calò, quella sera accompagnato dalla sua fidanzata, aveva incontrato in una stradina della periferia francavillese l'ex di lei. Doveva essere, sulla base dei messaggi scambiati dai tre giovani, una sorta di incontro chiarificatore. Invece, su via Boito ci fu, per il pubblico ministero Raffaele Castro, una sorta di agguado premeditato. Dopo il rapido diverbio verbale, questa la ricostruzione, Calò avrebbe colpito il rivale con una mazza in legno, lunga 30 cm, completa di madico e punta di metallo. Sul fronte investigativo, i risultati arrivarono dopo pochi giorni, quando i carabinieri della stazione di Francavilla Fontana trovarono l'arma utilizzata nascosta in un terreno e identificarono il presunto responsabile, ovvero Carmelo Calò, accusato di tentato omicidio e poi ristretto nel carcere di Brindisi, che ora dovrà essere nuovamente davanti al giudice il prossimo primo aprile, cercando di far valere, nell'ultimo atto del rito abbreviato, quelle che sono le sue ragioni. La più importante di tutto, di non aver mai agito con premeditazione e di non aver mai voluto uccidere il povero Davidone, così come è conosciuta la vittima nel mondo del tifo della Virtus Francavilla Calcio.